Spacchi audaci, trasparenze, ricami, piume e frange come strumenti della femminile vanità nei set haute couture firmati Anton Giulio Grande. Lo stilista calabrese ha scelto come location la Galleria Benucci a sottolineare il prezioso legame fra arte antica e artigianalità. In questi salotti boudoir dove le fortigiane si aggirano fasciate in tubini rosso rubino spicca anche una moto moderna decorata dal tatuatore Marco Mani.